Ciao, chi sei? Ciao, sono Daniele Cosa fai nella vita? Al momento sono un detenuto Bene, quanto ti manca? Fino a ieri mi mancavano 7 anni però grazie a un capello per 4 anni che sono spettorti mi manca 2 anni e mezzo di contattata E che lavoro fai? Sono quasi 4 anni che lavoro dentro il carcere assunto da una cooperativa sociale e aggiunto bicicletta Bene, allora perché dovremmo finanziare con Eppela il progetto di crowdfunding? Dove stai finanziando? Perché è una mano, per me è stata una grande mano per cambiare la vita da quella che facevo prima a quella che condigo oggi cioè l'inserimento sociale funziona, esiste e il finanziamento di Eppela permetterebbe all'altro detenuto di iniziare il percorso che ho fatto io E questa bicicletta l'hai fatta tu? Questa è una parte del lavoro che facciamo in officina biciclette questo è un progetto che con la cooperativa abbiamo iniziato è un marchio che si chiama Piede Libero perché sono biciclette particolari in pratica di vecchio qui c'è solo il telaio retro tutto il resto sono persi i mobili E che cosa ha di particolare questa bicicletta? Di particolare a parte la verniciatura che ora la vedete così però è una vernice che si carica di giorno di luce la notte diventa la bicicletta color blu un po' sporescente però a parte questo tutte le bici Piede Libero sono uniche e hanno più che altro è l'abbinamento dei colori dei pezzi particolari che sono uniche diventa un pezzo unico che chi la possiede ce l'ha solo lui Bene grazie Daniele di essere stato con noi Grazie a voi se ci date una mano e a chi seguirà le vostre donazioni Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti